che non sono entrati, facciamo questo annuncia la formazione annuncia il video no, noi non puoi ripetare la formazione per i galleri numero 1 chechetto numero 3 mazzaro numero 69 numero 69 con con Zeynhauser numero 90 Ghezla numero 14 Amati numero 7 Cristopoli l'interpunti numero 26 Henry si 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 numero 16 Donata adesso non si sente il bomber il numero 10 Poche Marine e il capitano il numero 4 Zan Mauro di Hasler ma bro fanno quello del Davi adesso si metto quello del Davi noi non lo dobbiamo fare si no lo faccio io vai tu accendi come si accende vai 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 e per il Davinci il numero 1 Lucidi con il numero 4 Marcantoni con il numero 5 Fontana con il numero 6 Carvieri Carvieri con il numero 8 Tarazin è stato il 7 il 7 con il numero 9 Zeynha con il numero 7 Molto Lotti con il numero 10 Del Dott con il numero 17 Dantimo e con il numero 77 Viffer a disposizione in pagina abbiamo Eggio Vera con il numero 2 con il numero 3 Zeni con il numero 12 Eccel con il numero 45 D'Alessio con il numero 69 Varadieri con il numero 69 con il numero 69 Denunzio e ci allena Matteo Dallaventa Spendilo Così Prova Prova Sì Mettilo Allora adesso noi iniziamo In teoria In teoria noi iniziamo Mettila Occhio Mettila qua No questo Sì Metti il Galilei qua La sua Switch Iniziamo Iniziamo Una rivalità che dura da quasi 50 anni due scuole in eterna competizione pubblico delle grandi occasioni Lo spettacolo è assicurato Un derby tra i due licei scientifici di Trento che si preannuncia rovente sia sugli spanti sia in campo Dopo diversi anni i due licei tornano a darsi battaglia sul terreno di gioco Chi vince oggi sale in paradiso Chi perde scende dritto all'inferno Dallo stadio Bria Maschio di Trento Buon pomeriggio Da Leonardo Milanaccio In mia compagnia ci sono Domenico De Lama E Andrea D'Affronto E buon Galilei Da Vinci Liceo Galilei che si schiera in completo tutto blu Liceo Da Vinci che si schiera in completo tutto rosso L'arbitro sarà Alessandro Iuliano Conosciuto sui social come arbitrino E il match si preannuncia scoppiettante Direi di partire subito con il riepilogo delle formazioni Domenico per il Galilei chi c'è? Galilei che si schiera con il 4-3-3 Tra i pali numero uno Checchetto In difesa Maggiano con il numero tre Zamboni con il numero quattro Cettolo con il 23 E Zeni con il 69 Centrocampo a tre con Gheslan Con il 27 mezze ali Abati con il 14 regista Attacco a tre Hoke alla sinistra con il 10 E Roy con il 26 unica punta E Donà alla destra con il 16 A disposizione per il liceo Galilei Il numero due Paoli Il numero cinque Margonari Il numero otto Samuelli Il numero diciassette Sala Il numero novantadue Zanoner Il numero sedici Marco Vecchio Il numero nove Chistè Il numero novantanove I governatori sono Lorenzo Cattani E Ernesto Toninato E per il Da Vinci invece Andrea chi c'è? In porta abbiamo Lucidi Con il numero uno In difesa Difesa quattro Terzino destro Bortolotti con il numero sette E il terzino sinistro Con il numero 77 Piffer I centrali sono Fontana Con il numero cinque E D'Antimo con il numero 17 La mezzala destra Del centrocampo a tre Del Da Vinci Sarà del dot Con il numero dieci A mezzala sinistra Tazin con il numero otto E il centrale Con il numero quattro Marco Antoni Attacco a tre Con il centravanti Il numero nove Zeni Alla destra Carrieri con il numero sei E alla sinistra Ascione con il numero undici A disposizione In panchina abbiamo Con il numero due Vridi Con il numero tre Zeni Con il numero quarantacinque D'Alessio Con il numero sessantanove Martieri Con il numero novantanove Denunzio E il portiere di riserva Eccel con il numero dodici Allena Matteo Dalla Betta Acclamati I beniamini Del pubblico Con l'inno Della Champions Oggi per l'occasione E arbitrino Fischia Applaudono I giocatori in campo È tutto pronto Sembra Per cominciare In questo stadio Che ospita Squadre ben più Rinomate Come il calcio Trento Che milita in Serie C Nella terza liga Del nostro campionato Lancio della monetina Ci si aspetta Un match Fin dai primi istanti Molto sentito Sia sugli spalti Che in campo Cosa ne pensi Domenico? Questa pioggia Probabilmente Alimenterà Diciamo La La forza Di giocatori in campo Che dovranno dare tutto Per cercare Di non essere Impossibilitati Nel gestire bene Il pallone Si stanno Scambiando gli ultimi Convenevoli Ma tra poco Sarà solo Calcio E Andrea Andrea Cosa pensi Dell'arbitro? Cosa dovrà aspettarsi oggi Da questa partita E da questi giocatori? Un arbitro molto giovane Ma ha già affrontato Spide del genere Si deve aspettare Una sfida tesa Con nervi saldi Deve mantenere lui Nervi saldi Perché Da un momento all'altro Potrebbe scompiare Una scintilla Che Rovinerebbe la partita Deve essere molto bravo Bravi anche I rappresentanti Dei due licei A organizzare questo evento Oggi Priamasco È tutto per La comunità scolastica Della città Sia Ex Membri Delle scuole Che Tutti i giovani Frequentanti Dei licei Sugli spalti Da una parte Tutta la tribuna del Galilei Dall'altra Tutta la tribuna Del Da Vinci Che ovviamente Per questione di numeri È più numerosa Ma sicuramente Anche il Galilei Non farà mancare Il suo apporto Ai suoi giocatori Non manca Qualche stella Da analizzare Nel corso di questa partita Diversi rappresentanti Anche per La squadra Che ospita oggi La partita Ovvero Il calcio Trento Abbiamo Cristofori Con il numero 7 Del Galilei Da monitorare Da mezzala Ormai Pianta stabile Nelle giovanili del Trento Anche nel Da Vinci Ci sono elementi Molto interessanti Come ad esempio Fontana Ex Primavera Degli Aquilotti Giallo-Blu Da Vinci Che finisce Di fare le foto Di squadra Prima dell'inizio Della partita Squadre che giocano A specchio Entrambe col 4-3-3 Andrea Come pensi Che debbano interpretare I giocatori in campo Questa situazione Di gioco I giocatori si conoscono Da poco Quindi andranno Sicuramente a cercare Il loro posto Quindi Saranno partita Uomo su uomo E non ci saranno All'inizio Probabilmente Molti spazi Lasciamo un po' di spazio Anche al pubblico Che sicuramente Oggi Si farà sentire Molto acceso Per fortuna Tribuna coperta Quindi non ha neanche Ostacolato dalla pioggia Può sentire tutto il suo apporto Ai propri beniamini È tutto pronto Questione di istanti I portieri stanno Rimettendosi Nella propria area di porta L'arbitrino Deve iniziare A fischiare Proprio ultimi secondi Palla che Parte con il possesso Del Galilei E inizia il giro Palla Della squadra Del Lungo Fersina Con Ancora davanti Il Galilei Prima palla Spazzata fuori Spazzata fuori E allora Rimessa per il Da Vinci Però Subito Galilei che vuole Far sentire la pressione Possiamo notare Come non c'è Nessun membro Dei giocatori in gru Nella propria Metà campo Sono tutti Nella Nella tre quarti avversaria Per cercare subito Di far male Ai rossi Giro palla Palla Molto stretto In qualche modo Prova a tenerla Bortolotti Rimessa per il Galilei Ma subito In avanti Il Da Vinci Che rioccupa La metà campo Del Galilei Sì Bortolotti Tanto bagnato il campo Schizza il pallone Allora Che si è portato Già due volte In questi primi cinque minuti Sulla fascia destra Chiuso bene Per due volte Dagli avversari Il fallo laterale E ora Il Da Vinci Prova a rinforzare Dal basso Come si è visto Più volte Questi primi minuti Zeni Allarga per Bortolotti In avanti Per Cargieri Oh vai A ostacolarlo Abati Poi In avanti Per Zeni Trattenuto Si continua a giocare Molto fisica La partita In mezzo al campo Recupera la palla Gesla Poi messo giù E interviene subito Arbitrino E subito le prime proteste Il pubblico si scalda Interessante Questo raddoppio Di marcatura Sul fulturo Del gioco Da Vinciano Che è stato Immediatamente Preso Sotto controllo Da due giocatori Del Granitei Giusto il fallo Ha provato A dare il vantaggio Ma non Si è concretizzato Forse Manca una munizione Ha deciso Di non ammonire Per il breve inizio Di partita Vediamo se Manterrà Questo Questo trend Trova il lancio lungo Zamboni In mezzo all'area La spizzata Ma poi Palla che arriva Al 22 del Galilei Si gira Entra in area Attenzione Pericoloso Serie di finte Poi la mette in mezzo Allontana In qualche modo La difesa Del Da Vinci Sarà il primo corner Per il Galilei In confusione Qui la difesa rossa Mai organizzata È stato bravissimo Nel 1-22 A serpeggiare In mezzo A tre difensori Del Da Vinci Sembra L'ottima forma L'ala destra Del Galilei E subito Un'opportunità La bandierina Vedremo come si organizza L'attacco Del Galilei Parte dalla bandierina Cross Tagliente Sul secondo po' La palla che arriva Per un attimo E Roy Che non la domestica Allora Sulla fascia Palla che gira In affanno Però poi la recupera Il Da Vinci E poi Il contubile con Asione Attenzione Asione supera la metà campo Prova a involarsi Ma recupera tutto Zamboni Capitano Con l'esperienza Poi palla Checchetto Che spazza E rimessa laterale Ma ha fatto vedere Il Da Vinci Che se parte Con i suoi esterni Può fare davvero male Esatto Prova a pungere In controviede Il Da Vinci Che sembra Aspettare L'errore del Galilei Più propenso Ad attaccare In questa prima fase E di nuovo Sulla fascia destra Così come il Galilei Partono gli attacchi Dei rossi Adesso Giro palla Del Da Vinci Palla Del Dot Che rischia Qualcosa Qui sulla Pressione Di Ok Poi si libra Molto bene Però recupera Il Galilei Pallone in avanti Alla ricerca Di un compagno Poi allontana Tutto Pifferi Rimessa laterale Galilei Che sa Sembra poter Far male Al Da Vinci Con questi improvvisi Rilanci Verso Le proprie ali Molto rapide Eh sì Il numero 22 Che pressa Costantemente La manovra Difensiva Del Da Vinci Vediamo ora Che prova a liberarsi Messo giù Tutto regolare Tutto regolare Rimessa per il Da Vinci Pallone che schizza Complice La tanta acqua Pallone In bilico Poi Zeni Si appoggia indietro A Lucidi Che è costretto Al rinvio Rinvio Perfetto Per Marcantoni Col tacco Poi Ascione La perde Però ancora Da Vinci Poi recupera tutto Gens L'ha messo giù C'è Il calcio di punizione Sembrava netto Qua L'intervento Sull'avversario Si Intervento netto Ma Nei minuti Precedenti Ha lasciato molto giocare Bisogna che Si mette in chiaro Se vuole Lasciare giocare O fischiare molto Per adesso La partita Comunque È Corretta Qualche scorrettezza Ma Giusto Nelle dinamiche di gioco Nessuna scintilla Che sia ancora accesa È ancora presto Per questo Vero Domenico Tanto agonismo Ma Niente cattiverie per ora Sembra Una sana partita di calcio Grande L'agio per Zeni Che può correre È un po' pressato Poi scarica bene Ancora Palla per Del Dot Sulla fascia Che si libera Poi la Lascia scorrere In comprensione Col compagno di squadra Allora Ne può Gioire Il Galilei E Maggiano Si appresta A battere la rimessa Qui poteva fare Veramente male Il Da Vinci Eh sì Probabilmente Non ha notato Che il campo Vicido Rallenta la corsa Del pallone Quindi sarebbe forse Potuto arrivare Su questo filtrante Non è ancora Non è ancora abituato Da Vinci A questo tipo di terreno Di gioco Ma è ancora in avanti Con Bortolotti Palla per Zeni Che prova a girarsi Commette però Fallo Probabilmente Tocco con il braccio E allora Ripartirà Il capitano Zamboni Anzi Probabilmente Lascia la battuta Direttamente a Checchetto Fa salire La squadra Fase di studio Fin qui Partita che non ha ancora Regalato nessuna conclusione Verso la porta Sì Molti lanci lunghi Non dico a caso Ma Non a cercare Precisamente un compagno Spazzano Finora senza troppi E fanno le difese A parte con l'occasione In cui Il Da Vinci Si è dovuto Difugiare in corner Partita ancora bloccata Secondo me Il Da Vinci Si sta mettendo a 5 Perché vedo Il Il centrocampista Marcantoni Che si è spostato Sulla difesa Sulla linea in difesa Sembra costruire a 5 E anche Carrieri e Ascione Si scambiano molto Le due ali davanti Adesso vediamo Questo giro palla Con Bortolotti Che prova a sparare La metà campo Poi viene fermato Regolarmente Da Cristofori Vanno in avanti Per Erroi Erroi prova il filtrante Però chiude tutto Molto bene Piffer Calcio d'angolo Per il Galilei Il secondo E subito Salgono anche i centrali Vuole mettere pressione La formazione Di Toninato E Cattani Allora Dalla bandierina Probabilmente andrà Gesla Con il suo Destro Bel taglio Di Dantimo Che ha anticipato L'attaccante Si bravo anche Cristofori A intervenire Grazie al raddoppio Su Bortolotti Altra Pesione interessante Per il Galilei Corner Teso sul secondo palo Allontana la difesa Del Da Vinci Poi Ascione Può far ripartire La squadra Poi serie di rimpalli Però era in fuorigioco Il numero 22 Del Galilei Allora Punizione per il Da Vinci Che può rifiatare Palla subito Giocata per Zeni Ancora Giropalla Del Da Vinci Zeni Prova Alla Il lancio Poi ci ripensa E ritorna Da Dantimo Lancio in avanti Per Zeni Forse in posizione Di fuorigioco Però la recupera Tranquillamente Cettolo E allora Rimessa però Per il Da Vinci Causa L'imprecisione Di Cettolo Comvice Il terreno bagnato Partita che fin qua Non si sta Sbloccando Giusto non fischiare Il fuorigioco Perché non era ancora Arrivato il pallone All'attaccante Ancora Prova la palla In avanti Per Carrieri Che però desiste Complice Il rimbalzo Sfortunato Con la pioggia Che porta Il pallone Al rinvio Dal fondo Di cui si occuperà Checchetto Eh sì Quando siamo giunti A un terzo Della prima frazione Di gioco È arrivata La prima Sortita offensiva Del Da Vinci Che non era ancora Riuscito ad arrivare Dalle parti di Checchetto Ci ha provato Ora con questo lancio Sulla destra Per Carrieri La palla Che però è terminata Sul fondo In realtà Era fuorigioco Non era rinvio Dal fondo Giusto Un bell'occhio Di Alessandro Giuliano Poi la rimessa In avanti Prova la spizzata Ok Però Palla che finisce Out E allora Palla Al Da Vinci Con Bortolotti Alla battuta Sembra esserci stato Un forfè Comunque Dell'ultimo minuto Di Fontana Al suo posto Come abbiamo ribadito Prima C'è Zeni Chissà se Abbia risentito Male nel riscaldamento Complice anche Il freddo Che A cui non siamo più Abituati da un po' Pioggia che ormai Continua Incessante E sicuramente Caratterizzerà Tutto l'incontro Pallone qua Rimesso indietro Per Zeni Che prova a girare palla Sempre con Bortolotti Prova ad avanzare Lancio Bella palla Poi lo stop Non è dei migliori La recupera Attenzione ancora Al Da Vinci Poi Se di rimpalli Pallone che schizza Vanno a lottare Roy E Dantimo Dantimo messo giù Intervento sul pallone Allora si continua a giocare Ancora Dantimo In proiezione offensiva Se ne va sulla fascia Poi prova Lo scarico ad Ascione Se ne di rimpalli Poi ancora Al Da Vinci E alla fine Gesla Riesce Ad andarsene E a far riparare Per partire il Galilei Attenzione Sbilanciato il Da Vinci Prova C'è ok libero Prova a servirlo Ma sbaglia Allora Carrieri In avanti per Zeni Che ha un po' di campo Può andare Pallone Ancora petta Le gambe di Zeni Poi col tacco Palla che passa Attenzione Prova a girarsi Tassin Ma viene Fermato Dal Galilei Pallone che ritorna A Zeni E continua La Crescente Offensiva Del Da Vinci Che non vuole Smettere di attaccare Poi Ascione Rimpallato Allora dal dot Ritorna dietro E il Da Vinci Continua a rimpostare Eh si Da Vinci Che crede molto Nel lavoro Da centro boa Di Zeni Che col suo fisico Imponente Può Captare molti palloni E poi Rigiocarli Dietro ai compagni Come prima abbiamo visto Con il colpo di tacco Geniale Poi chiuso Dalla difesa Del Galilei Ma è un Da Vinci Che sta crescendo E si offre Sempre più spesso Cresce in mezzo Di Ascione Zeni la tocca La può arrivare lì Ancora Zeni indietro Prova la botta Bloccato Poi Carrieri In qualche modo Poi allontana Ed eccola La prima occasione Della partita Ed è subito Un Da Vinci Molto Molto Pericoloso Bravo Zeni A crederci E bravo A metterla dietro Salvataggio Incredibile Di testa Gran salvataggio Allora continua Attenzione Il Da Vinci Nella metà campo Del Galilei Pallone ad Ascione Poi lo fa scorrere Per Piffer Il contrasto Poi si recupera E allora Avanza Il Galilei Con il suo numero 22 Sulla fascia Grande fit Poi messo giù Trattenuto C'è calcio di punizione Al limite dell'area Sembra che ci si Che ci sarà O un richiamo O un cartellino Vediamo cosa Deciderà Juliano Decide ancora Di non ammonire Come nei primi minuti Decisione Corretta Adesso Vediamo Perché È una punizione Proprio Al limite dell'aria Sulla Sull'auto di destra Probabilmente da lì È difficile andare Alla conclusione Si opterà Per Un cross In mezzo Sale anche Il capitano Zamboni Vediamo se non sarà Proprio lui a colpire Capitano Zamboni Che appena ha ricevuto Qualche indicazione Dalla panchina Sa che non Opteranno per uno schema Comunizione comunque Interessante dal vertice Destro Dell'area di rigore Parte Gesla In mezzo Con l'esterno Pana che passa Poi Luci di blocco Sicuro Però Si è fatto vedere Anche il Galilei Partita che Sembra Aver Alzato L'intensità Le due squadre Hanno aumentato I giri del proprio motore Si Il Da Vinci Si è fatto sentire Decisamente Con la precedente azione In cui È andato addirittura Al tiro Tiro che è stato bloccato Dal colpo di testa E il Galilei Ha dovuto Per forza rispondere Con questa bella Sortita Del solito numero 22 Poi bloccato Fallosamente E allora Punizione Che si è risolta Con nulla di fatto Per il Galilei Zeni prova il lancio lungo Per nessuno Però I compagni Li chiamavano Un giro palla In più Invece di cercare subito Il lancio Che complice Il terreno Non in perfette condizioni È difficile Da domesticare Allora Checchetto Prova a sua volta Un rinvio Che però Rimane corto Non è perfetto Però il controllo Di Bortolotti In qualche modo Però recupera la palla Il Da Vinci Allora Uncora Bortolotti Prova a far correre Sulla fascia Zeni Invece no Si gira Palla che passa Petazin Attenzione Grande intervento Dopo intervento Miracoloso E arriva Prima rete dell'incontro Ascione Di rapina La butta dentro E 1-0 per Da Vinci Bellissima azione Del Da Vinci Sulla destra Contazin che fa un inserimento Perfetto Prova due volte A segnare Portiere bravissimo Ma poi arriva Ascione Che non sbaglia La metta all'angolino 1-0 da Vinci Partita che Si è aperta Col botto Tutto E si qua È stato bravissimo Bortolotti Con il filtrante In mezzo Poi prodigioso Checchetto Che ha ribattuto Per due volte La conclusione Ma poi Nulla potuto Sulla terza Sortita con La tasina Che ha Messo All'angolino E allora Cambia il punteggio È 1-0 da Vinci Tutti In campo Perché sanno Che ogni Ogni Occasione È d'oro Si Prendilo Lo faccio io Se vuoi La prendi La prendi La c'è 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 Presione Nel frattempo Gioco Con Contrasto Giudicato Regolare Dall'albo Riparte Ancora Da Vinci Attenzione Ancora Ottima azione Di Marcantoni Che si gira Palla che passa Dall'altra C'è Carrieri Libero Non servito Marcantoni Messo giù Punizione Fallo di Abati Ai Da Vinci Che adesso Sembrano Sulle ali Dell'entusiasmo I Galilei Non deve assolutamente Peccare di fretta Perché siamo appena Alla metà Del primo tempo Il tempo c'è E non bisogna Sfrecare palloni Perché il Davinci Ma subito Conclusione Pallone sulla traversa Ha provato a sorprendere E Sorpreso Checchetto Brivido Per il Galilei Che grande piede qui Che in un attimo Poteva essere Sotto di due gol Il Galilei Deve Frenare un attimo L'impeto Di Parigiare la partita Ragionare Riordinare le idee E poi tornare ad attaccare Con criterio Come faceva prima Magari affidandosi Alla solita Alla destra Che fin qui È stata Molto pericolosa Per il Davinci E allora Checchetto Arrindio Dopo il cambio di pallone Poi complice L'altro finito Fuori dallo stadio E allora Marcantoni Prova Subendo anche fallo Lascione Galvanizzato dal gol Prova a involarsi Sulla fascia Poi Palla per Daldot Come gira palla Il Davinci Molto bene Ma recupera Tutto Cettolo E allora Rilancio per Rerroi Chiuso da Zeni Poi però ancora Palla Galilei Per un attimo Deldot la recupera E allora Indietro per Bortolotti Che ha un po' di campo Però preferisce Appoggiarsi Dietro A Zeni Adesso sicuramente Non deve avere fretta Il Davinci Perché è passato in vantaggio E la sbloccata Invece il Galilei Deve cercare di aumentare La pressione E provare A rendersi pericoloso In avanti Il centrocampo del Davinci Sta salendo in qualità Sta salendo sia il numero Marcantoni Sia il numero Tassin Che con Il suo mezzo assist È salito Attenzione che Bortolotti Riesce a superare Un paio di avversari Poi viene chiuso Prontamente Da Maggiano Che però Perde la palla In rimessa laterale Domenico Cosa deve fare Adesso il Galilei Per riuscire A fermare Questo Davinci Che sembra ormai Aver preso il palino Del gioco Allora il Galilei Deve innanzitutto Non farsi schiacciare Dal Davinci Nella propria metà campo Perché abbiamo visto Che grazie soprattutto A Zeni Occhio qui Il lancio Subito per Carrieri Che però Svirgola male La conclusione Ecco Come dicevi Domenico Non deve farsi sorprendere Il Galilei Ma qui Ingenuamente Maggiano Si è fatto proprio Cogliere di sorpresa Da Carrieri Eh sì La potente fascia destra Del Davinci È sempre più pericolosa Con Bortolotti Spina nel fianco Da dietro E Carrieri Che arriva a parte Più avanzato In quanto ha la destra E c'è anche Zeni Che è veramente pericoloso Per la difesa Che non deve farsi schiacciare E Deve assolutamente Farsi aiutare Dal centro campo Fin qui Dullo Quello del Galilei Che deve aiutare La manovra Con più filtro Quando attacca il Davinci E migliori passaggi In profondità Quando attacca il Galilei Serie di colpi di testa Alla fine del Dot Riesce a domesticarla E girarla dietro Per i centrali Del Davinci Che fin qui Si sono mossi Ottimamente Ancora Continuano A scambiarsela D'Antimo E Zeni Poi allargata Per Piffer Ancora D'Antimo Inizia una sorta Di melina Il Davinci Forse è ancora Un po' troppo presto Infatti Zeni Tra l'altro Prova A guardare avanti Al lancio Poi preferisce Appoggiarsi Ad al Dot Palla che passa Zeni è un po' libero Prova così Mezzo scivolando Palla che Alla fine In qualche modo Arriva Attenzione a Piffer Che però preferisce Non concludere Appoggiarsi a Marcantoni Poi sbaglia Il mediano Del Davinci Il passaggio ad Ascione Sarà rimessa Per il Galilei Ma qui abbiamo visto Ancora una volta Come il Davinci Quando aumenta I giri del motore Sembra essere imprendibile Per i difensori Del Galilei Eh si Il Galilei qua Tira un sospirone Di sollevo Perché Era nata l'ennesima Sortita pericolosa Da parte dei Davinciani Che hanno già recuperato Palla Occhio qui Ascione Si gira bene Palla indietro Poi controllo Non dei migliori Pressione Arriva per un attimo Eroi Poi invece Zeni Allora la gira Per Carrieri Carrieri pressato Ecco Questo deve fare Il Galilei Intanto però Davinci continua A mantenere il possesso Allora Del Dot Prova il cambio gioco È libero Ascione Palla che però Viene allontanata Dalla difesa Del Galilei E allora Prova a girarsi Gensla Giro palla Del Gali Poi Piffer in anticipo Allora Ascione Ascione prova ancora Trova di nuovo Piffer sulla fascia Che fa partire un cross Bello teso Però è tranquillo Checchetto Che blocca E fa respirare i suoi Eh sì È proprio questo Quello che deve fare Cristofori Fin qui un po' in ombra Ma abbiamo visto Come in questa azione Possa essere sempre Più pericoloso Per gli avversari È partito in pressing E ha indotto All'errore gli avversari Poi ha Sbagliato un appoggio Ma sta salendo L'intensità Anche il suo gioco Cosa pensi Andrea In questo momento Della manovra Deltavince Deve continuare così O può anche Tirare un attimo il fiato Dato che la partita È ancora molto lunga Ma galvanizzato Dal 1-0 Secondo me Deve continuare così Deve continuare a spingere Per provare a cercare Il raddoppio Spinto anche dal Dal suo pubblico Che sta facendo Grandi cose Attenzione Qui sbaglia E Oca può Riapprofittarne Però Grande duello Tra numeri 10 La spunta Del dot Ma con un fallo Secondo il direttore E allora Sarà punizione per il Galilei Che può Salire e respirare Eh sì Oca che finora Non sarà praticamente visto Deve accentrarsi di più Visto che il gioco In questo momento È principalmente A centrocampo È stato bravo A convergere verso il centro Qui del dot Commette fallo E allora Calcio di punizione Poco oltre Il centrocampo Proteste molto Giuste del Da Vinci Visto che Non mi sembrava Ci fosse fallo Ma non devono Prendere tempo A protestare Devono concentrarsi Sul giocare E allora Capitano Abati Sul punto di battuta Parte il lancio Sul secondo palo Però Svetta Ascione Allora Zeni Può ripartire Attenzione Pressato Da Cettolo Prova a girarsi E lo fa bene Riesce a superare Il diretto avversario Poi si ferma Dato che non ci sono Compagni davanti Lo riparte Il giro palla Del Da Vinci Che fin qui Ha trovato comunque Degli ottimi spunti Galilei Che invece È andato una volta Solo alla conclusione Ma Lugidi È stato bravo A bloccare E Zeni Ancora con la palla Sale Il tifo Per I beniamini Vestiti in rosso Dal Dot Qui senza fallo Continua Il gioco Del Da Vinci Bello scambio 1-2 Passa Palla che passa Bortolotti Attenzione In avanti Per Tassin Chiuso Da Cettolo Dritto sul pallone Si continua a giocare Ottimo intervento Qui del centrale Del Galilei Però Non è finita Palla che è ancora Nei piedi di Valdoro Al tacco Ma alla fine Chiude tutto Abbati Eh sì Bravissimo qua Cettolo Nonostante abbia tolto La scarpa all'avversario Con questo intervento Ma intervento pulitissimo Sul pallone Grande freddezza Per il numero 23 Che deve assolutamente guidare La retroguardia Insieme a Zamboni Una retroguardia in difficoltà Mi trovo Iuliano Molto vicino all'azione Ha visto Perché ha preso il pallone E ha lasciato giocare Ora ha fermato il gioco Perché si deve rimettere Lo scappino Altrimenti Non si può riprendere Scontro Palla che È uscita Molto vicino Il direttore Allora È rimessa per il Galilei Che qua però Ha sofferto Ancora Un ottimo 1-2 Tra Bortolotti E Carrieri Ottima Ottimo da vincere Su questa fascia Che fa sempre male Sembra che Abati Ma già non riescano A trovare Le giuste Contromisure Sì Permettimi di far notare Anche il grande lavoro Fin qui di Zeni Con la numero 9 Che in un'azione precedente Ha ricordato il miglior Lukaku Prima si è fermato Ed è ripartito di forza Su Cettolo Poi ha arretrato Ma è un fattore Veramente importante Con il suo fisico Che può far male Giocatore che ha giocato E gioca nel Calisio In promozione Quindi abituato sicuramente A partite di questo livello E anche qualcosina in più E sta facendo valere Fin qua Tutta la sua esperienza Bortolotti recupera Palla Di mestiere Poi però Cristofori Riesce a recuperarla Sfida tra i numeri 7 Vinta dal Galileano E allora in avanti Palla recuperata Da Zeni di testa Che però È un assist Alla fine Per Donà Che prova Ad avventarsi su questo pallone Riesce a lanciare Roi Ostacolato in qualche modo Da Marcantonio Però ancora Roi Entra in ale Attenzione E Roi La mette dietro Poi arriva Prontamente La chiusura di Piffer Altro giro dalla bandierina Per il Galilei Ma qui ha saputo Far male in ripartenza Al Da Vinci Terzo calcio d'angolo Per il Galilei Ancora una volta Nato dal grande recupero Di Cristofori Che ha servito Dietro un compagno Rivio Non sappiamo se Direttamente perdonato Poi però ha domesticato Ha stato bravissimo A lanciare per Roi Che ha resistito di fisico Chiuso poi in calcio d'angolo Ma il Galilei Se vuole Può recuperare questa partita Sono stati bravi I difensori Del Da Vinci A rientrare In difesa Velocemente Esatto Non hanno Tentennato Di Zeni Si sono rischiarati E prontamente Marcantoni Con un po' di esperienza È riuscito a ostacolare Quel tanto che basta il Roi Intanto vediamo il corner Dritto però Tra i guantoni Di Lucidi Che allora può far ripartire La squadra Prova subito il rilancio Lungo per Ascione Partito Prima della metà campo Quindi in posizione regolare Duello con Cettolo Cettolo alla fine Si appoggia al suo portiere E in qualche modo Se la cava il Galilei Però Checchetto svirgola Malamente il rinvio E allora In attacco il Da Vinci Sotto pressione Checchetto Possiamo notare anche Pressione mentale Perché c'era solo Un giocatore del Da Vinci A cercare di recuperare Il pallone Ma Cettetto Si comunque sentito più sicuro A lanciarlo in fallo laterale Regalando un'opportunità Al Da Vinci Che ora si porta A metà campo avversario Arbitrino Dà la giusta distanza Del punto Della rimessa laterale Che se ne incaricherà Piffer Che prova magari A chiamare uno schema Palla in avanti Per Tazin Molto abile Nell'inserirsi Ma questa volta La palla è troppo lunga E termina sul fuoco Sì Tazin sta giocando Molto più avanzato Sotto la punta Zeni Per dargli una mano E questo ha anche portato Al gol Dell'1-0 Zamboni Siamo più o meno Alla mezz'ora di gioco Sempre 1-0 Il punteggio Per il liceo Da Vinci Ma la partita È ancora lunga E tutta da giocare Infatti Cristofori Prova a girarsi Tra le linee Trova un po' di spazio Prova a servire il compagno Poi serie di rimpalli Che favorisce L'intervento Di Lucidi E alla fine Se la cava Attenzione Prova il lancio Per Donà È buono Con i tempi giusti Prova il cross Sul secondo palo Però che di testa Svetta Pallone che però Termina sul fondo Brivido Galileiano Ecco l'occasione Del Galilei Il primo tiro Dei giocatori Maglia blu Bravissimo Donà Fin qui il migliore Dei suoi Prestazione importante È riuscito a mettere Un bel cross però Che è bravissimo A svettare su questo pallone Non è riuscito però Imprimere la giusta potenza E la giusta direzione Alla sfera Che è terminata Comodamente sul fondo Zeni Per Del Dot Ancora Bortolotti Gira palla Il Da Vinci Senza fretta Ha notato Che Ha alzato L'intensità Il Galilei E Probabilmente Punterà A finire Con questo risultato La prima parte Di incontro E Se riuscirà Cercherà di Pungere in contropiede Bortolotti Qua recupera palla Sulla pressione di ok Allora Zeni prova la sventagliata Per Piffer Che la mette giù Molto bene però Complice il terreno bagnato Scivola il pallone Allora la recupera Donà Che si gira Molto bene Il migliore dei suoi Fin qui come ha rimarito Domenico Pocanzi Ancora Donà Pressato Incontenibile Sembrerebbe però Pallone che Finisce Fuori E allora Rimessa per il Da Vinci Eh sì Donà Finora Aveva l'idea Di vedere le giocate Di Donà Qui era riuscito A passare in mezzo a due La palla che però Era uscita dal terreno di gioco E allora Nuovo possesso per il Da Vinci Che però deve stare attento Su quella fascia destra All'incursione di Luigi Donà Bortolotti in avanti Allora si ritorna indietro Allora si ritorna indietro Palla per il Galilei Con Maggiano Che gira Lancio di Zeni Prova a servire Sulla corsa Donà Lo trova Però arriva Tempestivamente D'Antimo Che guadagna Anche la rimessa laterale Perfetta Qui la diagonale In chiusura Del difensore Del Da Vinci Prima Continua con Zeni Zeni del Galilei Però perde palla Senza fallo Invece no Arriva un filo di ritardo Il fisco del direttore Ma il contatto Sembrava esserci Sì Giusto il fallo E giusto ancora Non ammonire Arrivano i cori Di proteste Non è andata giù Al pubblico del Da Vinci Questa decisione Dell'arbitro Adesso Galilei Ha una grossa occasione Da calcio Da fermo Da sfruttare E si incaricherà Probabilmente Cristofori Della battuta Vediamo se Applicherà Lo schema di prima Sul secondo palo Dove c'è Capitano Zamboni O si inventerà Qualcos'altro Magari cercando Una Una giocata Con il più in forma Del Galilei Il numero 22 Parte La punizione Proprio appunto Su Zamboni Sul secondo palo Prova a girarsi in aria Chiuso Correttamente Da Bortolotti Poi pallone però Recuperato Da Zeni Ancora però Bortolotti Riparte il Da Vinci E ha tuttanto Campo Zeni Che può girarla Dall'altra parte Per Ascione La porta un po' Poi servito Ascione Attenzione Da Vinci Da Vinci in contropiede Pallone dall'altra parte Per Bortolotti In qualche modo Prova la conclusione E arriva il miracolo Di Checchetto Non è finita Zeni la recupera Attenzione a Zeni Che prova a puntare Pallone indietro Per Piffer Piffer Dietro del dot Ci ha un po' Di spazio 2-0 Prima della fine Del primo tempo Fantastico contropiede Del Da Vinci Che si è spostato Da sinistra a destra Per poi concludere Gran parata Appunto del portiere E Roy recupera Allora Palladona In avanti Di nuovo per Roy Prova a autolanciarsi Il 26 del Galilei Alla fine Zeni la recupera Però pallone Che finisce Tra i piedi di Ghesla Ghesla si inciampa Sul pallone Ghesla poi rallenta Entra in aria Attenzione Pericoloso Ghesla in mezzo a 2 Non c'è niente Secondo l'arbitro Pallone che rimane libero Abatti Ancora Confusione Ghesla poi ritorna Fuori dall'aria Pressato da Del dot E alla fine E qui arriva L'intervento Del direttore di gara Pericoloso Ghesla e Abatti In mezzo all'aria Contatto dubbio Ma La punizione È stata fischiata Al limite Non c'era assolutamente Fallo Si è lasciato andare Troppo poco Per fischiare un rigore In questa In questa partita Giusto invece Il fallo al limite Dell'aria Nulla da dire Per ora Sull'arbitraggio E si inizia a farsi vedere Anche Ghesla Che in quanto Mezzala Può proporsi in avanti E poi è stato bravo Anche se Si è inciappato Del pallone Ma aveva creato Una buona opportunità Per i suoi Adesso Buona opportunità Che rimane Perché Una punizione Insidiosa Quasi come un calcio D'angolo Da quella zona Del campo Vediamo Se ci sarà qualcuno Pronto A spizzarla I centimetri Di cetolo O di nuovo Palla in mezzo Palla per cetolo Che svetta E la gira E la gira Pallone che finisce fuori Pericoloso Qui il centrale Del Galilei Che ha sfruttato Tutta la sua elevazione Lasciato abbastanza libero Dalla difesa Del Da Vinci Manca una zona Molto passiva Del Da Vinci Bisogna tenerli Più stretti Gli uomini Si possiamo notare Come le uniche Due occasioni Del Galilei Siano arrivate Da calcio da fermo Con colpi di testa Che sono finiti Entrambi fuori Ma Sembra essere L'unico modo In cui il Galilei Può raggiungere Le parti lucidi Quello del colpo di testa Lancio di Zeni Per il fratello Entrambi Da Vinciani Pallone che però Viene toccato Per ultimo Da Zeni Allora Rimessa Per Maggiano Manca poco Ormai Alla fine del primo tempo Maggiano Pronto Al rinvio lungo Vedevamo Due Assetti tattici Diversi Il Da Vinci Che predilige il gioco Il fraseggio Il gioco Al piede Invece Il Galilei Punta molto Sui calci da fermo E ha Dimostrato Di poter far male Anche In questo fondamentale Adesso Galilei Che si spinge in attacco Con una rimessa di Maggiano Lunga per eroi Però Zeni Lo ferma prontamente Ancora Maggiano Si gira Bene Poi passa Con il tunnel Attenzione Ancora Maggiano Che però Non si capisce Con A parte Allora il rilancio Attenzione C'è Zeni In posizione regolare Zeni si gira bene Poi fa correre Tassin Che la controlla Però deve rallentare Pagano in avanti Per Ascione Troppo Lunga Sarà Rimio dal fondo E ancora una volta Però il Da Vinci Sa far male In ripartenza Si sulla fascia destra Ancora Con Tassin Con Carrieri Stanno spingendo molto Possono dare ancora tanto Rosè Donà Che si libera Con un gol Di tacco E mette in movimento E Roy bravissimo Con il fisico A superare l'avversario Poi ne aveva saltato Un secondo Il terzo Gli ha impedito di calciare Ma altra opportunità Per il Galilei Due offensive Galileiane Adesso prova A ripartire dal basso Con Zeni Il Da Vinci Deve tenere duro Questi ultimi minuti Del Dott Stop di petto Non dei migliori Però poi Gira per Piffer Ascione Vediamo Sulla fascia Il Da Vinci Ascione ritorna Indietro Da Del Dott Che ragiona Pallone In appoggio Indietro ad Antimo Che lo deve però Rincorrere Pallone rischioso Qua per Zeni Sbaglia Lucidi E allora Buona opportunità Per il Galilei Che si ritrova In una zona D'attacco Molto pericolosa Con la rimessa Affidata al solito Maggiano Vediamo se Riuscirà A trovare il pareggio Il Galilei In questo finale Di primo tempo Palla indietro A Erroi Erroi In qualche modo Erroi Ancora per Ok Ok Si gira Poi farà Partire Il cross Per Donate Di testa Appoggia Comodamente Però Lucidi Forse Prima Disattenzione Di Donate Che non ha Controllato Al meglio Questo lancio Ma Galilei Che prova A chiudere Attenzione Zamboni Sbaglia il controllo Allora Regala Palla ad Ascione Ascione Serie di doppi passi Poi prova Il cambio Gioco Per Carrieri Carrieri La palla Che scorre E non riesce Ad arrivare Sul numero 6 Del Da Vinci Occasione Qua per il Da Vinci Che subito Risponde presente A quella Del precedente Del Galilei E però Può ripartire Il Galilei Carrieri Ha perso il tempo Di andare sul pallone Di calciare Con la palla Che è schizzata Sul campo bagnato Grande intervento E allora riparte Però Cristofri si oppone Possesso Galilei Cettolo Pressato Da Zeni Recupera in qualche modo Palla Zeni del Galilei Perché qua Ci sono tre Zeni In campo In questo momento In posizione regolare Si gioca Però Trova la direzione Dal Dot Ghesla poi In qualche modo Ghesla ancora Recupera la palla Attenzione Abatti in attacco Abatti Murato Ancora Abatti Per donà Posizione regolare Pallone in mezzo Per Ghesla Duello Con Dantimo Che favorisce L'uscita L'uscita di Lucidi Si salva Ancora una volta Da Vinci Attenzione Che Lucidi Riparte Con questa Cross lungo Per far correre Zeni Pallone troppo lungo Arriva direttamente A Checchetto Ma che ribaltamenti Di fronte Che si stanno vedendo In questo momento Due squadre Che stanno lottando A viso aperto Entrambe Vero Domenico? Eh sì Qua si è fatta vedere L'esperienza Da ex chievo Di Dantimo Bravissimo con il fisico A chiudere su Ghesla Che aveva provato A entrare in aria Non è riuscito Proprio per la grande Chiusura del numero 17 del Da Vinci Bravo Prima Lucidi Ad uscire Prontamente Concedetemi Una battuta È stato lucido Ci sta Andrea Intanto però Attenzione Perché qui È lucido anche Zeni Che non si fa sorprendere Alle spalle Da ok E allora riparte Il Da Vinci Con Piffer Palla sempre Per Ascione Che prova col tacco A lanciare Zeni Segnalato però L'uscita Della sfera E allora Rimessa Galilei Atmosfera fantastica Qui al Briamasco Con entrambe le tifoserie Che si fanno sentire Allora La rimessa In avanti Per Ghesla Trovato E cercato Si riesce a girare In qualche modo Poi È troppo solo Del Dott Allora recupera facilmente Il pallone Poi sbaglia Marcantoni Allora ancora Palla per il Galilei E Roy si gira Attenzione E Roy In campo aperto E Roy Rimiene su di lui Marcantoni Molto bene Rimedia l'errore precedente Poi palla Che ok Prova a difendere Ma viene pressato Da Carrieri E poi Bortolotti Si appoggia A Zeni Ottimo Qui il solito Tandem Da Vinciano Sull'out Destro E allora Zeni Per Bortolotti Prova il lancio Per Jacopo Zeni Che appoggia Molto bene La domestica E si gira E allora Ancora Da Vinci Che può costruire Con Ascione Sulla fascia Prova il numero 11 Rosso Bella palla Per Daldot Che trova Il giusto spazio Cross in mezzo Per Tazin Con il giro Cato il pizzo Attenzione Arriva Marcantoni Prova la conclusione Murato E poi però Checchetto Evita il calcio D'angolo Allora si può Giocare Checchetto In due tempi Adesso Fa rifiutare I suoi Che però Continuano a subire Le avanzate Del Da Vinci Peccato che Tazin Non sia riuscito A controllare in aria Sarebbe stato Un calcio di rigore In movimento Amati Del Dott Bel duello La fine Lo vince il numero 10 Del Da Vinci Che prova a girarsi Lo fa bene Su Carrieri Che ha un po' di campo Adesso prova a correre Il numero 6 Bella palla per Zeni Subito Di prima in avanti Ma chiude tutto Zamboni Il lancio poi Per Dona Che prova a girarsi C'è spazio Attenzione Cristofori Largo c'è Ok Ok Servito Il numero 10 Del Galilei Punta Poi sbaglia tutto Però E concede Il rientro di Piffer E la rimessa Però Sa per il Galilei Si peccato qui Perché sul tramonto Da primo tempo Ha riuscito a costruire Una trama interessante Ancora Con il solito Dona Che aveva trovato Cristofori Che è riuscito A dimpeccare Ok Pecca qui Per lucidità Il numero 10 Che non è riuscito A servire Eroi Cristofori Qui ci prova Con un bel lancio Ma chiude tutto lucidi E può ripartire Il solito Ascione A tanto tanto campo Dall'altra parte C'è Carrieri Tutto solo Pallone però Servito a Zeni Che si libera bene Attenzione Jacopo Zeni Entra in area Punta L'altro Zeni Del Galilei Poi perde Palla Ottimo L'intervento del 69 Galileiano Che può ripartire Attenzione Squadre sbilanciate Il lancio in avanti A cercare ok Ma Palla Sbilenca Arriva direttamente Ad Antimo Che può Far ripartire La manovra Del Da Vinci Quando ormai Manca poco Alla fine Del primo tempo Del dot Il fischio qua Può ingannare Ma viene direttamente Dalle tribune Se continua a giocare Del dot In avanti Per Tassin Poi Ascione Prova a rubagliela Addirittura Poi alla fine Ravalla rimane al numero 8 Che viene 1-2 Perfetto Poi il lancio in avanti Desiste Zeni Palla troppo lunga Comoda per Checchetto Sempre più impreciso Le due squadre In questo finale Del primo tempo Si aspetta probabilmente Solo il fischio dell'arbitro Per Recuperare un po' Le forze Che in virtù della pioggia Vengono meno Sempre più velocemente Prova a Dona E Roy Solito Tande In funzione A meraviglia Ancora Dona Poi in qualche modo Stacolato da Piffer Ma la palla rimane ancora Il 22 del Galilei Sulla schiena di Piffer Allora Pallone che rimane lì Gesla Cristofori Abati In avanti Prova a cercare E Roy Chiude tutto a Zeni E prova a lanciare L'altro Il fratello In viso aperto In campo aperto Poi qui Fallo forse Su Zamboni Si continua a giocare Per il vantaggio Allora Cristofori Si gira bene Attenzione Passa in mezzo al campo Cristofori In avanti Prova Gesla Ad agganciarla Con una giocata complicata Poi Cettolo Anticipa Zeni Si continua a giocare Fase molto dura Dell'incontro Carrieri Pescato In posizione Di fuorigioco E allora Ripartirà Con un calcio di punizione E anche di lei Si fuorigioco Molto dubbio Noi siamo molto Molto messi meglio Rispetto all'arbitro E probabilmente Non era in fuorigioco Ma va bene così Si continua a giocare Allora Con Checchietto Pronto Al rinvio Pallone in avanti Alla fine Svetta Zeni Però Sul rimbalzo C'è Abati La mette giù Col petto In qualche modo Il roi Pallone che rimane lì Allora Lo recupera Cristofori Maggiano Maggiano Prova ad andarsene Sulla fascia Maggiano Ne salta due Poi però c'è Bortolotti Sulla sua traiettoria Che si gira bene Attenzione Bortolotti Ancora lui La porta è a lui Bella palla Per Tassin Si scala dal pubblico Del Da Vinci Tassin In capo aperto Prova La lancio per Bortolotti Che continua a seguire Il pallone Ottimo Intervento Di Cettilo In calcio d'angolo Ma qui Bortolotti Ha fatto una gran giocata Bortolotti Si è fatto 80 metri di corsa Per poi quasi andare al tiro Bella chiusura Della difesa del Da Vinci Del Galilei Primo angolo Per il Da Vinci Con Ascione Che incita Il proprio pubblico Importante Magari siglare Un'altra rete Proprio a ridosso Dello scadere Del primo tempo Andiamo Carrieri Su Chiamalo schema Da calcio d'angolo Tutti in mezzo a saltare Cross Molto lungo Che si perde Sul secondo Palo E arriva Il fisco Di arbitrino Squadre Che andranno a bere Sotto e caldo Ne avranno proprio bisogno Dopo questo Primo tempo Sotto la pioggia Allora noi ci congediamo Ci rivediamo Per il secondo tempo A presto Sotto la pioggia Che andranno a bere Grazie a tutti. 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 Donà. a tutti. 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 bravo. anche il rinvio. a tutti. a tutti. rosso. si lascia. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. esce. esce. anche il numero. a tutti. a tutti. ed entra. a tutti. dentro. dopo. , ci si è. di più probabilmente da chi porta quel numero sulle spalle o che ha offerto qualche buon taglio ma niente di più diversi palloni interessanti buttati via vedremo se Zanoner farà meglio allontanata la palla e allora adesso si entra in quella parte del match sempre più rovente non ci sono ancora stati falli di cartellini ma vedremo se le due squadre continueranno a mantenere fin qui un approccio corretto alla partita con tanto agonismo ma poca cattiveria qui Fontana subito in anticipo palla per D'Antimo e allora Carrieri avanza prova a lanciare Ascione ma c'è in anticipo Zamboni che si gira anche bene e prova a rilancio che però è facile preda di Fontana devo fare una correzione non è uscito il numero 17 D'Antimo che è ancora in campo ma è riuscito il numero 77 Piffer così Bortolotti a sinistra in questo momento con la palla grande intaglio di Zeni Zeni poi si gira prova a entrare in aria attenzione di prepotenza Murato sarà calcio d'angolo per il Da Vinci per concludere il discorso Bortolotti si è spostato come terzino sinistro e Fontana è entrato come terzino destro pallone che deve essere passato per la battuta del calcio d'angolo se ne occuperà Marcantoni secondo corner per il Da Vinci primo non sfruttato al meglio vediamo questo Marcantoni teso paracca arriva Fontana poi Bortolotti pallone che si impenna ultimo tocco del difensore del Da Vinci sarà rimiuto al fondo per lei che dopo un buon inizio di primo tempo si è spento completamente vediamo ora deve riuscire a costruire meglio le azioni e arrivare a Donà perché il numero 22 migliore in campo del primo tempo ha toccato tipo tre pallone finora allora va a rinvio Checchetto pressione qua pallaca arriva in Roy si gira bene Cristofori prova al lancio per Donà posizione giudicata regolare poi chiuso dal solito Bortolotti altro giro della banderina per il Galilei ma che occasione qui che aveva Donà grande partita di Bortolotti che chiude primo un po' distratto sul taglio di Donà che è partita in posizione regolare ma bravo a recuperare e allora dalla banderina Gesla saltano gli uomini del Galilei però è subito presente con i pugni allontana poi Abati difficile l'aggancio qui allora palla che rimane lì si ormai si si naviga nelle pozze di acqua e fango palla che però viene recuperata da Zeni poi la lascia al capitano Ascione che ha spazio può correre su una zona di campo non troppo inondata d'acqua poi grande cambio gioco dall'altra parte per Carrieri che la mette giù in qualche modo poi allarga per il compagno se la fa ridare no denunzio per Del Dot allora Del Dot torna indietro da Fontana fase un attimo di respiro per i giocatori e anche per noi che mosse ti aspetti Domenico da Toninato e Cattani allora l'ingresso di Zanoner fin qui non ha dato gli effetti sperati vedremo se agirà da ala pura come è stato fin qui Donà che abbiamo visto in precedenza imbeccato bene ma che non è riuscito a portare a termine un'azione d'attacco ecco appunto Zanoner che vedremo se agirà da ala pura quindi incursioni sulla sinistra e tentativi di cross per il Roy fin qui cercato poco Fontana chiude tutto movimenti sulla panchina del Da Vinci per adesso abbastanza ferma quella del Galilei poi palla che non si intendono i Da Vinciani allora possesso per il blu cioè per il Galilei Zeni pressato da Shone in qualche modo poi l'ennesimo dicevo di Bortolotti che però sbaglia questa volta allora Donà può lanciare il Roy sulla corsa e il Roy palla che schizza e rimane lì e poi Eccel sicuro in tuffo evita guai eh sì abbiamo visto come ufficialmente Donà è la scintina di questo Galilei è da lui che partono le azioni più interessanti aveva cercato di trovare il Roy con una palla leggermente troppo lunga complice anche gli imbalzi sul terreno bagnale c'è intanto a Portolotti che è ripartito molto bene come al solito a Shone indietro per Del Dot che prova a guardare a girarsi il regista di questa squadra Fontana allarga per Carrieri Carrieri con l'esterno palla in mezzo per Zeni arriva Fontana altra palata fondamentale di Cecchietto e poi Cettolo allontana in calcio d'angolo che occasione per il Da Vinci grande azione di Da Vinci grande triangolo che porta davanti a Portiere Fontana che tira abbastanza angolato il Portiere bravo a respingere si straordinaria la sfonda di Zeni un'altra volta con il tacco bravissimo a trovare il compagno ma un'altra volta si fa trovare pronto il portiere Cecchietto che con la terza parata mantiene solo 1-0 il risultato del match ed entra in campo con il numero 2 eccio pera Edoardo Bridi vediamo adesso dove si posizionerà è uscito forse il miglior in campo in questo momento del Da Vinci ossia Bortolotti vediamo se Bridi riuscirà a non farlo rimpiangere palla che passa attenzione a Scione su secondo palo la tiene un attimo poi subito palla a Bridi Bross deviato ancora Bridi fresco appena entrato la lascia del dot del dot pressato alla fine ottiene il massimo ossia la rimessa laterale di cui si prende anche l'incarico subito per Bridi che viene ridà palla al 10 ma si oppone Ghesla allora prova Ghesla a uscire da una situazione complicata lottano in mezzo al campo alla fine della rimessa è per il 90 del Galilei e allora avanza il Galilei ancora un'altra rimessa cerca adesso con i lanci lunghi Galilei di riuscire a guadagnare campo poi Bridi si oppone a Ghesla del dot recupera palla attenzione in qualche modo ancora serie di rimpalli fase confusionaria alla fine ci mette il piede Zeni e guadagna pure il massimo perché trova la deviazione di un avversario e allora rimessa in zona d'attacco per il Davinci sì tatticamente non cambia nulla Bridi terzino sinistro nella stessa posizione che aveva occupato Bortolotti Bridi che è un po' il beniamino del pubblico del Da Vinci conosciuto da tutti allora palla tra le mani di Cecchetto che fa ripartire Zamboni che ha un bel po' di campo però si allunga un po' troppo rischia palla che arriva però ad Abati ancora in avanti per Roy Ghesla la mette giù prova a servire Donà che la recupera attenzione Donà salta secco Bridi si entra in area attenzione Donà palla in mezzo allontanata ancora lì poi spazza in qualche modo la difesa rossa che bravo Donà finta stop and go e avversario ha lasciato sul posto poi cross impreciso ma è veramente acqua nel deserto per incalire questo giocatore che non deve calare di intensità del dot per Fontana che si allarga chiuso da Zanoner però è sempre rimessa per il Da Vinci alla denunzio indietro per Zeni ancora numero 99 gira palla bene che si si libera dell'avversario Carrieri ma il campo è finito e allora rimessa per il Galilei fase della partita un po' senza idee per entrambe le squadre sembrano aver tirato il fiato probabilmente per gli ultimi assalti finali e si denunzio che abbiamo visto agisce da regista basso cercato molto dai compagni in questi ultimi minuti deve fare da filtro tra centrocampo e difesa e Finqui l'ha fatto molto bene palla Cristofori che avanza in qualche modo staccolato da Scione che non riesce a recuperare il pallone Dona Dona con la conclusione Dona c'è l'incrocio pallone sul fondo ma che occasione per il Dona grandissimo tiro di interno piede di Dona che ha lasciato partire una conclusione velenosa palla che si è abbassata all'ultimo sembrava nettamente fuori ma la sfera è terminata molto vicina ai palli difesi da Eichel è la seconda volta che Bridi si fa pregare da da Dona deve stare più attento non deve cercare l'anticipo deve temporeggiare denuncio in avanti chiuso e allora ancora rimessa per il Da Vinci serie di applausi per Bridi che si incalca della rimessa pallone in avanti lotta Marcantoni poi la recupera Gesla ancora denuncio tenuta in campo pallone però riconsegnato alla difesa del Galilei e allora Zamboni prova a salire a far salire la squadra indietro per Cettolo allarga per Zeni davanti per Dona ostacolato da Bridi regolarmente allora Marcantoni denunzio non ha idee davanti allora torna indietro da Fontana ancora il 99 perde palle brutta zona però il rimpallo favorisce Dantimo allora Marcantoni a tanto campo attenzione può ripartire il Da Vinci Marcantoni Marcantoni si gira il rimpallo non lo favorisce ma poi si allora Bridi c'è largo Ascione non servito Bridi perde palla velenosa questa palla e allora Gesla può ripartire con la palla per il Roy messo giù ed è calcio di punizione e arriva forse anche il primo cartellino del match fa lo tattico di denuncio si giusta la munizione per Spa stoppava una promettente azione d'attacco ed è il primo giallo della partita probabilmente forse un po' troppo tardi ma va bene così e ora si portano in avanti i giocatori del Galilei con capitano che va a battere la punizione è un'occasione da sfruttare viste le poche idee davanti vediamo se saranno in grado di sfruttare questo calcio piazzato e allora in avanti il lancio di Zamboni corto allontanato di testa da Zeni attenzione duello tra i due Zeni la spunta lo Zeni del Da Vinci che poi però non serve bene a Scione però la palla che arriva ad una palesemente in posizione di fuorigioco e allora punizione per il Da Vinci subito battuta da Dan Timo e allora Zeni gira palla per Fontana e allora Zeni ancora 25 minuti da giocare è ancora lunghissima sia per le speranze del Galilei che per il Da Vinci che deve resistere e cercare di pungere in contropiede Marc Antoni si gira bene Bridi largo per Rascione che col tacco sulla corsa manda Denunzio Denunzio poi in mezzo per Zeni Zeni c'è campo dall'altra parte per Carrieri che mette giù attenzione Carrieri ci gira bene Carrieri Carrieri l'aria attenzione allontana tutto c'è lo providenziale azione meravigliosa del Da Vinci che da sinistra a destra si porta in aria poi prova a servire dal dot ma palone sbagliato più della difesa del Galilei grandissima giocata del Da Vinci difesa del Galilei che non può farsi trovare così impreparata solo dopo un colpo di tacco di un avversario devono essere i galeiani che stanno un po' patendo la stanchezza serve forse qualche energia fresca dalla panchina infatti cambia chiamano i cambi gli allenatori e l'arbitro vediamo se li farà subito o aspetterà dall'ok c'è pronto Samuelli con il numero 8 si Samuelli in mezz'ala che è con forte propensione all'attacco vedremo come aggira il numero 8 giocatore del Montevaccino entra al posto di Ghezla se non andiamo errati e dunque mezz'ala per mezz'ala no Abati quindi non cambia nulla dal punto di vista tattico Samuelli che proverà a dare apporto offensivo alla sua squadra in realtà copro adesso c'è il Da Vinci allora con le mani carriere in avanti sul petto di Marcantoni che poi la prolunga poi Cettolo non va tanto per il sottile e manda il rimesso laterale pallone che si perde oltre le transenne quindi con calma Fontana senza fretta forse con la rabbia dei Galileiani per questa ferita di tempo ma facendo di defrettare i tempi della battuta arbitrino palla subito a Carrieri lunga in avanti a cercare la torre Zeni pallone che però passa poi campanile che si alza fallo qui su Marcantoni del dot vuole subito battere veloce lo fa denunzio largo c'è Ascione che ha un po' di spazio ma guarda dall'altra parte e serve Zeni ma impreciso arriva prima Maggiano poi in qualche modo la recupera Zanoner però senza farlo secondo gli attori di gara il possesso è di nuovo per il Davinci palla in avanti perdona ancora serie di rimpalli poi eroi lo vince però deve costretto a tornare indietro e si affida di nuovo a Checchetto c'è stato un cambio di posizione nel Davinci Ascione ha preso il posto di Bridi come terzino sinistro e Bridi si va in avanti come ala sinistra vediamo se questo cambio sfrutterà qualcosa per il Davinci intanto qua Dona per Cristofori che però sbaglia il controllo e allora Zeni torna indietro dal fratello Davinci che sembra in questo momento prendere più iniziativa Carrieri si gira molto bene sulla fascia Carrieri poi la perde la recupera però attenzione pressato da due avversari ancora Carrieri continua a tenere il possesso del pallone poi in qualche modo ostacolato suo l'ultimo tocco e rinvio dal fondo si poco lucido i Carrieri negli ultimi minuti stanno cercando incessantemente il pallone senza una precisa tattica palla che non arriva là davanti sembra forse esserci stato un cambio modulo vediamo che ci sono Dona e Roy posizione centrale vedremo come si svilupperanno le successive manovre offensive Checchetto in avanti palla che viene recuperata da Marcantoni poi potrebbe passare per Zeni nuovo Checchetto che allarga per Zamboni in avanti a cercare Zanoner poi Cristofori gran palla per Zanoner pallone che però viene fermato dal campo e allora Dantimo riesce con l'1-2 di Marcantoni a liberare pallone che però ritorna per un attimo solo in possesso dei blu e riparte invece con una gran palcatazione però poi si ferma rallenta serve Bridi scambiano i due Bridi però sbaglia il Dai e Vai e allora Zeni può provare il lancio per Erroy anticipato anche lui DelDot squadra che sembrano non trovare più tante idee di gioco e DelDot qui è pressato da due e però non subisce non c'è fallo nei suoi confronti allora lui si accascia con le mani sul pallone in arbitro lo ammonisce per il fallo di direzione e e sì qua ammonito DelDot per comportamento antismortivo dopo non aver fischiato il fallo è giusto ammonito per DelDot ma probabilmente c'è la fallo su di lui e sì raddoppio di marcatura è un po' aggressivo da parte di Cristoforo Eudonà DelDot si è lasciato un po' cadere ma probabilmente ci stava il fischio dell'ambito il fatto sta che c'è calcio di punizione per il Galidei va a batterlo il numero 69 Zeni deve essere a 9 metri Marcantoni si allarga quindi Zeni pronto a mettere in mezzo questo cross pericoloso attenzione arbitrino sistema le coppie in aria attenzione pallone probabilmente verrà calciato sul secondo palo è così bello lungo pallone però allontanato da Zeni DelDot per un attimo poi riparte bene il Da Vinci con Jacopo Zeni bella falcata del numero 9 pressato da Cettolo che non lo può contenere però pallone in mezzo per Acione Acione tutto solo Acione arriva al recupero di Zeni che però non riesce ad arrivare fino in fondo straordinaria ricorsa di Zeni che aveva tutta la rimessa si è fatto tutto il campo per andare a prendere il contropiede di Acione che forse poco lucido in attacco ma è stato bravissimo Zeni e si dopo 50 metri ha sbagliato l'ultimo tocco purtroppo e poi sterzando se l'è allungata anche il campo non ha favorito quantomeno un'asse seguito da Zamboni palla che passa poi il rischio di Zeni pallone che però finisce tra le mani di Eccel che chiama calma per i suoi perché è ancora lunga mancano ancora circa 17 minuti alla fine più eventuale recupero e entrambe le squadre stanno sentendo la fatica qui infatti c'è del dot completamente lasciato libero prova il ripiegamento offensivo Cristoforo rimai tardi pallone avanti per Acione che ha corso tantissimo e lo chiude eccetera con una gran scivolata sono i cambi non nuovo a queste grandi diagonali difensive eccetera è stato molto bravo nel corso della partita a chiudere gli avversari e allora cambi per il Da Vinci vediamo chi saranno i due destinati ad uscire arbitrino richiama perché bisogna affrettare le sostituzioni sono pronti D'Alessio e Baratieri a bordo campo entra D'Alessio per Marcantoni e vediamo per chi entra Baratieri probabilmente per lo stanchissimo Ascione ma non si capisce è ancora fuori dal campo Baratieri e ad uscire sembrerebbe Bridi che però era appena entrato strana scelta tattica di Mister per Dalla Betta Giro palla adesso del Galilei subito il neo entrato D'Alessio alla cassa del pallone poi il pallone che arriva ad Ascione Ascione finta per Deldott grande scambio ancora di tacco giganteggiano in mezzo al campo i due poi Cristofori però recupera palla sull'imprecisione di Dantimo però Deldott grande recupero prova a lanciarsi in avanti Jacopo Zeni servito poi si ferma rallenta poi palla davanti per Baratieri subito presente ma Accettolo lo chiude con Accettolo sicuro ritornando al cambio si molto strano che è ciopera Edoardo Bridi si è uscito ma lui è un uomo squadra e capirà benissimo la scelta del mister allora ancora Da Vinci in avanti Ascione per D'Alessio rimpallo poi Deldott sempre ovunque il numero 10 del Da Vinci Cristofori però recupera anche lui molto presente in mezzo al campo il neo entrato Samuelli che sta agendo più o meno come ha agito denunzio nella prima fase dopo il suo ingresso in campo dunque da regista basso Ascione qui non fischia l'arbitro l'intervento Sumaggiani allora palla in mezzo dall'altra parte per Jacopo Zeni 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 punta Serie di finte poi deve tornare indietro da D'Alessio D'Alessio prova la conclusione a giro pallone che è più un cross e ritorna allora ancora D'Alessio Gaesla però recupera subito di prima intenzione Eroi riesce a trovare Donai in qualche modo il 22 attenzione Donai in mezzo di nuovo Eroi riesce a controllarla Eroi indietro per Zamboni chiuso però Providenziale Fontana e allora riparte Barattieri tanto a terra un giocatore del Galilei si continua a giocare Cettolo però prontamente mette fuori campi probabilmente per Maggiani campi per Maggiani che ha corso moltissimo sulla fascia sinistra ha dovuto rincorrere gli avversari che più edificavano dalla sua parte adesso campi per lui si prospetta un cambio bel rientro della difesa del Da Vinci che chiude l'azione molto promettente del Galilei però bisogna rimanere più compatti perché il vantaggio bisogna mantenere il vantaggio e allungandosi non è così facile vediamo se dovranno cambiare pronto sembrerebbe Paoli al suo posto numero 2 ne approfittano le squadre per dissetarsi che nonostante le temperature non troppo calde comunque hanno corso un sacco i giocatori e hanno sicuramente bisogno delle ultime energie per l'ultimo quarto di gara Krampi sembra anche perdonare queste non sono certo buone notizie per il Gary Ray non riusciamo ancora a distinguere il calciatore a terra ma sembra essere lui eh sì si rialza però Luigi Donà e si rialza anche Maggiano vediamo giustamente Carrieri adesso restituirà probabilmente pallone al Galilei ed è così allora Checchetto pronto a ripartire Cettolo poche occasioni in questo secondo tempo rispetto alle tante emozioni che ci hanno regalato nel primo però è stato superlativo ricordiamolo ancora una volta inizio ripresa Lucidi due volte su prima su Erdogan poi su Donà che ha tenuto in piedi la partita Galilei che dopo quell'occasione sprecata forse si è un po' lasciato andare e adesso vediamo però se reagirà in questo finale di partita intanto la rimessa per Zeni che manda in avanti alla ricerca di Donà poi chiuso però allora Ascione con calma tocco dietro e palla però arriva del dot riesce a seguire Balatini subito di prima bello scambio con D'Alessio poi fermato con un tocco di mano si continua però perché è sempre palla per Jacopo Zeni e si gira si guarda un po' intorno e torna indietro da Dantimo prova il cambio gioco impreciso attenzione può ripartire Galilei Zanoner serve in avanti Zamboni Zamboni un po' di spazio Zamboni Zamboni entra in area di più potenza Zamboni ancora se la porta troppo in avanti bravo Eccel non c'è niente ed Eccel chiude tutto il capitano si spinge in avanti per provare a spingere la manovra dei suoi che devono assolutamente trovare il pareggio e qui tutta la forza del capitano grande uscita di Eccel pronto e lucido rimessa per Ghesla si gira il numero 90 poi serve per un attimo Samuelli palla che rimane lì ancora Ghesla lotta Ghesla prova la conclusione pallone facile e comodo per Eccel il reno sempre più pesante Davinci deve rimanere più compatto si sta allungando troppo e non può perdere quei palloni perché il Galilei ci crede ed è ancora mancano ancora 10 minuti e tutto può succedere giusto crederci non demordono gli attaccanti di Toninato e Cattani però forse è mancato qualcosa oggi in fase realizzativa e allora riparte Da Vinci con un giro palla Dantimo per Ascione stanchissimo numero 11 però è lui l'uomo che fin qui sta decidendo la partita con il suo gol nel primo tempo qui sbaglia impreciso Eccel allora rimensa in zona d'attacco per il Galilei che deve approfittare di queste ingenuità commesse dalla retroguardia del Da Vinci dal punto di vista tattico sembra che Barattieri si sia affiancato alla punta Zeni e non più e non si giocano più con gli esterni con un centrocampo addirittura a 4 si deve essere più di difesa l'iniziativa del Galilei qui Donami su giù non ravvisa niente il direttore di gara poi Ascione di avvento sul pallone rimessa per il Da Vinci Ascione che è stato anche colpito e probabilmente risente di un crampo e allora crampi anche per Zeni insomma il terreno pesante si fa sicuramente sentire due giocatori a terra come nel frangente precedente stavolta sono Zeni e Ascione entrambi per crampi si rialza Ascione Zeni ancora a terra pronto Paoli per il Galilei sembra che gli allenatori stiano dando disposizioni alla difesa l'allenatore del Galilei che non potrebbe entrare in campo intanto invece la panchina del Da Vinci incita il proprio pubblico il vantaggio sicuramente dei Da Vinciani è avere proprio sotto la tribuna essere proprio sotto la tribuna la propria tribuna e si sente il forte apporto di tipo ma anche il tipo del Galilei non è da meno dall'altra parte però forse la sta spuntando Da Vinci anche su questo aspetto e si noi siamo proprio sopra i tifosi del Da Vinci ci sarà un lungo recupero perché con queste ultime due interruzioni per i crampi dei calciatori quindi il Da Vinci deve ancora aspettare per gioire è ancora lunga squadre che sembrano stanchissime con invece anche la pioggia pallone che in teoria adesso dovrebbe essere del Da Vinci ce l'ha dal dot dovrebbe essere rimessa laterale Jacopo Zeni attenzione subito riparte poi col solito tacco per del dot che si è fatto nella rimessa laterale chiama a calma mister dalla betta allora palla in avanti per Zeni chiuso da Maggiano che si è spostato su questa fascia del dot per Zeni Dantimo in avanti a cercare D'Alessio anticipato poi non perfetto Zamboni ma quasi riesce ad autolanciarsi poi scivolata Fontana parla che rimane lì Cettolo sembra essere in anticipo però Cettolo la sfondita offensiva parla in avanti per Donà che non ci arriva pallone sul foco grande intervento di Cettolo che ci sta mettendo tutto se stesso è andato qui con una foca impressionante sul pallone è partito in contropiede ha provato a servire Donà palla troppo lunga e allora qui bravo Maggiano ad approfittare del rimio non perfetto vince anche il rimpallo attenzione poi scivolata l'ultimo tocco è da Vinciano e allora rimessa per il Galilei allontano il pallone il capitano Ascione fa parte anche di questo del nostro calcio quando c'è un'ovazione del pubblico pallone intanto seguiamo l'azione Donà riesce a darla a Maggiano Maggiano prova a liberarsi prova il tiro a giro blocca e c'è sicuro interessante questa giocata di Maggiano 1-2 con Donà poi palla sul sinistro e Mancino a giro palla centrale però con Eccel che con tutta calma fa risalire i suoi lancio in avanti a cercare i barattieri che la spitta palla che rimane arriva Zeni vince l'impatto attenzione Zeni ci invola verso l'aria avversaria Zeni 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 ma c'è l'intervento di Checchetto che nega la gioia del gol a Jacopo Zeni straordinaria parata di Checchetto bravissima in uscita subito però dall'altra parte Zamboni Zamboni squadre lunghissime palla indietro a Cristofori Cristofori prova a girarsi mezzo all'aria ancora di nuovo Zamboni Zamboni prova il tiro deviato rimpallato alla fine allontana tutto D'antimo ma non si può fermarsi un secondo palla che arriva dall'altra parte Paoli fermato da Carrieri prova il lancio per Zeni Zeni che riesce a controllarla Zeni che però viene chiuso da Cettolo palla che non è finita D'Alessio D'Alessio in avanti ancora Barattieri servito però in posizione di fuorigioco e allora può respirare il Galilei ma che azione che si hanno fatto vivere queste due squadre e si Zeni stanchissimo ma ha dato tutto e forse non è stato lucido davanti alla porta ma ci sta mettendo il cuore e l'anima come tutti i calciatori da Vinci per difendere questo 1-0 ma controllo sbagliato di Zanora sfuma un'altra possibilità per Inverilente è sempre più stanco non da farlo il direttore adesso si continua Gesla per Donà Donà prova a lanciare in avanti ma non c'è nessuno comoda per Eccel Eccel che guadagna qualche secondo ormai verso la conclusione dovrebbero mancare 3 minuti più recupero qua sbaglia il controllo Maggiano rimessa per il Da Vinci che di sicuro adesso farà di tutto per rallentare i tempi si sta alzando la temperatura sia in campo che sugli spalti sono gli ultimi minuti quelli decisivi qua però sbaglia attenzione Paoli per un attimo poi recupera Zanoner allora indietro a Checchetto disperato rinvio in avanti a cercare un compagno palla per il Zanoner che è solo può avanzare bella palla per Zambonico ormai si è spostato fisso in attacco il capitano chiuso però e allora rimessa per il Galilei cosa deve fare Domenico questi ultimi minuti il Galilei per provare almeno a trovare il pareggio allora il centrocampo deve assolutamente entrare più nel vivo del gioco Cristofore è di nuovo sparito dai dai radar deve devono essere capitati più palloni lui deve smistarli meglio gli attaccanti intanto la musica è sempre quella ripartenza del Da Vinci arremmante Batti rimette la mano in mezzo per Zeni contatto non c'è niente si gioca attenzione Maggiano può ripartire pericolosissimo però il Da Vinci in contropiede Maggiano in avanti chiude tutto Dantimo attenzione D'Alessio il controllo non è dei migliori poi il duello vinto da 45 rosso poi ancora un altro duello questa volta palla che arriva il Roy toccato da Daldot messo giù punizione secondo giallo è il secondo giallo per Daldot e quindi espulsione il Da Vinci finirà la partita in 10 gli spanti stanno impazzendo e qui potrebbe svoltarla il Galilei io suggerirei un ingresso in campo con l'entrata da parte di un giocatore offensivo al posto di una difensiva per cercare di spingere il più possibile anche se il Roy ha i crampi facciamo il punto della situazione in aria non c'era nulla bravo a non fischiare l'arbitro poi ripartenza del Galilei e Daldot trantiene per la maglia il calciatore del Galilei quindi interrompeva una promettente azione di attacco quindi giusto il secondo giallo e l'espulsione forse si potrebbe recriminare sul primo giallo in quanto precedentemente alla munizione di Daldot c'era un netto fallo su di lui ma ormai è andata così e bisogna difendere mancherebbe un minuto alla fine ma ci sarà un lungo recupero adesso a terra un giocatore in cari lei adesso tutto deve dare la formazione di Toninato e Cattani però con l'uomo in più può spingere per questo recupero di partita e anche perché sicuramente si saranno scaldati gli animi dei da vinciani calcio di punizione da tre quarti ma ancora non si batte vediamo se sarà necessario l'ingresso magari di chi stè giocatore offensivo che può rinnovare le speranze di pareggio da parte di Gray Lane tutto ok si può ripartire vediamo ora dal punto di vista tattico cosa cambierà nel da vinci che probabilmente rimarrà con una sola punta che sarà Zegni e Barattieri si sposterà a centrocampo con un 4-5-1 Razzanone sul punto di battuta cross lungo allontanato poi però la conclusione deviazione e sarà corner per il Galilei che ci crede ci crede e può crederci ancora per un abbondante recupero bravissimo eroe a cercare subito la conclusione bisogna fare così nel recupero non si può stare troppo a pensare bisogna calciare da ogni posizione velenosa la deviazione con la palla che è terminata sul fondo calcio d'angolo stiamo in play allora corner di gesla lungo esce però ecce poi che rimane lì attenzione samuelli in qualche modo ecce riesce a bloccare grandissime parate parate di eccel che rimedia all'uscita bruttissima vediamo l'arbitro 6 6 6 o 7 6 6 6 minuti di recupero 6 di recupero ancora lunghissima lo stadio prima masco in avanti per Zeni fermato e allora Zanoner si gira bene poi palla a samuelli lungo per Roy che trova campo e fa correre Dona che deve tenerla in campo ce la fa pressione su di lui di ascione che non si fa saltare Dona si accontenta della rimessa e Roy che sta agendo da falso 9 ora più arretrato rispetto a prima maggiano torna indietro da cristofori che fa partire il cross allontana tutto la conclusione di Samuelli in due tempi e Cell gli dice di no bravo Samuelli bisogna calciare da ogni posizione e Cell con l'esterno prova il lancio pallone che va direttamente fuori allora adesso Galilei che si proietta in attacco indietro il pallone poi in avanti cercare Dona spinto e c'è la punizione sono saltati tutti gli schemi panchine in fibrillazione tutto il pubblico è in piedi Galilei che cerca con tutte le forze di trovare il pareggio Da Vinci che in realtà sta già preparando alla possibile festa Maggiano pronto a lanciare in avanti arriva il cross morbido allontanato da da adesso poi Zeni messo giù continua si rialza e avanza attenzione pallone per i malattieri 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 per 69 cale a terra non c'è niente secondo il direttore si riparte straordinaria rincorsa di eroi di sicuro non si è fatto molti amici qui a Trento il signor Giuliano attenzione rimessa per il Da Vinci che può guadagnare secondi preziosi con la testa la plunga per barattieri carlo torna attenzione barattieri barattieri in aria murato riparte in qualche modo il Galilei ultimi minuti totalmente da vivere qui apriamasco Maggiano il lancio in avanti Dantimo chiude e riparte Dantimo poi chiuso da Cristofori Cristofori in avanzamento palla per eroi sulla corsa regolare la posizione del numero 26 eroi entra in aria eroi ci gira prova a servire Zanoner Zanoner bloccato in qualche modo ottima difesa del Da Vinci allora poi Paoli in avanti gasta la plunga di testa per Dona Dona chiuso e fuori gioco fuori gioco del giocatore del Galilei e quindi il Da Vinci respira respira manca pochissimo due minuti al termine dell'incontro Dantimo pronto al rilancio in avanti palla per Zeni anticipato da Maggiano se la tocca troppo forte allora rimessa per il Da Vinci continua a guadagnare tempo Zeni deve continuare a tenere sul pallone lotta Maggiano la riconquista Maggiano ancora il numero 3 prova a cambiare ma c'è Zeni che chiude alla prolunga attenzione la palla che arriva al solito Zeni che può partire di corsa ma la tiri taglia Zeni occupa il suo spazio poi arriva Paoli scivolata però la palla sembra rimanere in campo Carrieri con il numero 6 Carrieri Zeni chiama Palla a ganvoce Palla carriera proprio a Zeni che la stoppa di petto Zeni si gira in area la perde però Cettolo lo chiude Cettolo fa ripartire l'azione con Samuelli allora ultima forse opportunità per il Galilei Cristofori di nuovo per Samuelli bello scambio in proiezione offensiva il Galilei ma attenzione ascezione sbaglia Palla che arriva lì a Zamboni rientro providenziali D'Annunzio che allontana grandissimo rientro di D'Annunzio di D'Annunzio no D'Antimo D'Antimo confusione anche per noi questa fase concitata del match Palla è messo giù si continua a giocare tutto buono secondo l'arbitro prova a spingere Carrieri mancano 30 secondi alle fine dell'incontro e noi provano a lanciare avanti Zamboni ma chiude tutto Zeni e Deccel allontana la minaccia anche l'arbitro sembra confuso negli ultimi istanti sta fischiando si sta fischiando o no Paoli se l'allunga troppo e potrebbe essere l'azione che conclude l'incontro con calma Carrieri Cristofo Riera a terra ma si continua a giocare Zeni lotta e la conquista Zeni avanza inesorabile però c'è l'occhio di azione pressing di Zeni ancora Zeni però c'è Paoli che deve mandare rimessa laterale e allora rimessa per il Danici zona d'attacco ormai sembra essere finito il tempo e anche le energie per il Galilei non avrà di certo segnato Zeni ma ha dato l'anima il cuore per questa squadra eh sì sembra ormai ridotta al lumicino la speranza di pareggiare per il Galilei tutti stanchissimi il Danici mantiene il possesso che si avvia verso il trionfo palla in avanti per Zeni che la porta alla bandierina poi chiuso lo tiene il massimo calcio d'angolo per il Danici che vuole chiudere in attacco bisogna rimanere alla bandierina adesso non bisogna cercare il secondo gol bisogna fare finire finire qui la partita entra intanto per il Galilei il numero 17 Sala Sala la tengono lì è finita è finita vince 1-0 il Da Vinci con la rete nel primo tempo di Samuel Ascione dallo stadio Briamasco è tutto un saluto da Milano Nazio Leonardo Domenico De Lama e Andrea D'Affronto grazie a tutti e Andrea D'Affronto grazie a tutti 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 Mancano quelle parole, un po' sincere Che mi fanno un po' capire che non sei così facile o facile Mancano quelle parole, un po' sincere Che mi fanno un po' capire che non sei così facile o facile due am, due am, due am due am yo e te due am, due amue, due am, due am yo e te, due am, due am io e te, scelgo te, devo essere la mia moglie se dici no va bene, scelgli te tranquilla che per me è un problema ma non avrà un'altra chance ti tratto come la mia Marlène Un campare e vedi pa' che rimane con me Jetta, jetta, nella stessa camera total Tra in un taxi alle tu amiche Ok, ok Jetta, 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 andua am Jetta, jetta, sopra un volo diretto san trope Jetta, jetta, nella stessa camera total Jetta, jetta, andua am 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.